Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di due persone, anche se siamo tre in questo momento, due le conoscete già. Sono alla mia destra, Mazza Graziella, che è psicoterapeuta ed è presidente dell'associazione Prometes. E alla mia sinistra, Angelina Pettinato, sempre psicoterapeuta, e entrambe sono ambasciatrici dello yoga e della risata nel mondo. In mia compagnia, oltre a loro due, dicevamo c'è Antonio Molinaro, che è un commercialista, però ci racconterà adesso di questa iniziativa bellissima, che riguarda questa formazione, che da tre giorni sarà qualcosa di unico, che succederà proprio qui nella provincia di Catanzaro, ci diranno dove poi dopo si chiama ONN. Lo chiedo prima di tutto a Graziella, ci conosciamo, e poi lui che è commercialista ci spiegherà anche meglio, perché nell'ambito lavorativo queste attività sono molto utili, proprio per avere una maggiore sicurezza, penso, e per individuare quelle che sono probabilmente le potenzialità dentro di noi inespresse. Ora passo la parola a Graziella, che ci racconterà meglio di cosa si tratta. ONN è un format motivazionale, in Italia e nel mondo ultimamente si parla molto di questi tipi di format, è un workshop che ha nella sua originalità quello di essere diviso in tre pomeriggi. Tre pomeriggi perché? Perché ONN, che è Work Energy in Action, cioè questa energia in movimento, in tre pomeriggi, distanziati dai famosi, diremmo, 21 giorni, giorni che sono importanti, siccome le nostre parti, a che un comportamento diventi un'abitudine, quindi diventi parte di noi, si viaggia insieme, cioè quello che noi facciamo, io, Angelina e Antonio, è quello di creare un gruppo e insieme percorrere questi tre mesi, perché a distanza di tre settimane diventano quasi tre mesi, e in questi tre mesi viaggiare insieme, ognuna, ogni persona con le proprie necessità, i propri bisogni, c'è chi viene per curiosità, c'è chi viene veramente non sapendo dove si troverà accesi da questo nome o portati dalla conoscenza e poi mano a mano si svelano un sacco di cose. È una sorpresa continua, perché all'interno si trovano tecniche che tu puoi prendere e portarti a casa per fare poi il tuo viaggio da solo, perché gli altri ti possono accompagnare, ma in realtà il viaggio nella vita è tuo e quindi decidi sostanzialmente tu chi scegliere e da chi farti accompagnare. Certe volte anche da persone che apparentemente non sono quelle che tu cerchi, ma probabilmente se arrivano nella tua vita un motivo c'è, qualcosa ti devono insegnare. A questo punto, visto che tu parlavi di viaggio, io so che tra l'altro da pochi mesi tu sei rientrata da un viaggio, e quindi mi ricollego a te, perché tutto è collegato, lo ha detto adesso Graziella, niente accade per caso, tu sei di ritorno dal viaggio di Santiago de Compostela, quindi quale miglior percorso spirituale ed emotivo, che poi è quello che affronta, penso, la tematica di cui parliamo oggi. Questo on, appunto, che penso dall'inglese sia stato mutuato, quindi da accendere, da avviare, è una scintilla che forse si alimenta e che si accende dentro di noi per forse essere perseguita nella vita quotidiana. Beh sì, è così. Il viaggio più che verso Santiago, verso Finisterre per me è stato ancora più importante, insegna un sacco di cose, insegna che ogni giorno ci sono dei segni che ricevi, e una volta che li ricevi devi saperli utilizzare, perché tutti i giorni ne arrivano in realtà in abbondanza, ne arrivano così tanti che buona parte manco li vediamo, ma quelli che riusciamo a vedere bisogna poterli incanalare nel modo giusto, per cui se la metafora di questa intervista è il cammino di Santiago, beh sì, è questa conchiglia, questa stella, questa costellazione che ti porta a meta, e mentre ti porta a meta ti insegna che devi impegnarti, che devi essere tenace, che si può cadere, che i muscoli possono fare così male da pensare di non potercela fare, che invece poi quando tu ti alzi e ti lasci anche aiutare, magari lasciando per qualche minuto il tuo zaino al tuo compagno di avventura, il muscolo si riprende e tu puoi riprendere il cammino e arrivare a goderti il tramonto a Finisterra, questo è ON, ON è un accompagnamento, siamo in tre, il tre è un numero importante, e siamo tre incontri, è tutto voluto, tutto desiderato in questo modo, e ci sono tre momenti, c'è un momento di razionalità, c'è un momento di emotività, e c'è un momento di grande energia quando tu capisci che effettivamente tu hai una buona energia, ma anche gli altri hanno una buona energia, e quando queste energie convergono e stanno insieme può succedere qualcosa di importante e tu puoi premere push e dire ON è tutto acceso, l'idea è questa, sono successe tante cose da quando abbiamo iniziato ON, noi abbiamo una serie di riscontri rispetto ai nostri accompagnatori, noi abbiamo accompagnato loro ma loro hanno accompagnato noi, stanno succedendo davvero delle cose straordinarie a chi davvero ha deciso di vivere ON nel modo migliore, cioè di prendere effettivamente quello che è utile per poter tirare fuori il tuo talento e dire beh, si presenta a te stesso e realizza, e quando ci arrivano i feedback, e sono tanti, e ci dicono che si sono accese una serie di lampadine, anche oggi se ne è accesa una molto importante per uno dei nostri corsisti, probabilmente andrà fuori dalla Calabria per portare la sua arte, beh, allora dici ok, così c'è anche nello io e la risata, siamo sulla strada giusta. Quindi compagni di viaggio, io direi, perché voi siete in cammino, siete in questo percorso, compagni di viaggio, adesso chiediamo al terzo compagno di viaggio di questa bellissima avventura che è ON, vista anche sotto il profilo di colui che, essendo un commercialista, ha a che fare con il pubblico, problematiche di varia natura, e quindi da fruitore, personale magari, di questa esperienza, cos'è ON per te e soprattutto cosa può essere per chi ci si avvicina? Allora, prima di tutto per i nostri compagni di viaggio, i nostri fruitori, ON probabilmente è un corso unico, un percorso unico, perché noi abbiamo messo insieme tutto ciò che praticamente si ha bisogno per poter intraprendere la quotidianità, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista lavorativo. Gestiamo e diamo delle dritte, delle indicazioni su quella che è la gestione del denaro, su quella che è la creazione e la gestione di un'impresa, piuttosto che la realizzazione dei propri sogni. E mettiamo insieme questo, insieme ad un ambiente confortevole, a una definizione di quella che è un'alimentazione coerente con quella che può essere la persona, quindi abbiamo cercato di creare un habitat che dia l'humus giusto alla persona per poter sviluppare le proprie idee, concretamente in base a quelle che sono le aspettative della persona. Da questi nostri fruitori noi prendiamo tantissimo, infatti non esiste un incontro uguale all'altro, cioè i nostri format non sono standard, sono dei format che si adattano alle persone, ai fruitori, chiamiamoli tra virgolette corsisti, ma in realtà sono questi i nostri compagni di viaggio, noi adattiamo il format. Per me personalmente è un percorso di crescita unico, io mi sto mettendo, come dire, costantemente in discussione sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista anche formativo, perché ci si trova di fronte persone che arrivano da ambienti e da formazioni completamente diverse, quindi non è una formazione dove tu ti trovi tutti i colleghi o tutti i diplomati o tutti i casalinghe o tutti i dipendenti, no, puoi trovarti nello stesso posto il dipendente pubblico, la casalinga, il laureato, il diplomato, il muratore, e quindi tutte queste persone devi imparare a comunicare e quindi metti in discussione i miei strumenti per poter comunicare a tutti e riuscire ad arrivare a tutti da un punto di vista pratico, cioè riuscire a trasformare le parole in un qualcosa di pratico da utilizzare dal giorno dopo. Quindi praticamente da questo discorso che voi avete fatto tutte e tre, cosa emerge? Che comunque il collegamento mente-anima è correlato, perché quando si va a frequentare determinati seminari, corsi, stage, succede che una persona torni a casa, molte volte confuso, così ti rimane l'idea del seminario, invece voi volete un po' collegare queste cose, creare quel ponte che rilassa magari l'anima e fa in modo da far sviluppare quelle potenzialità, lo diceva prima Angelina, che altri non riuscirebbero a fare. Tanto più che io so che hai un centro, diciamo un centro benessere, proprio che si ricollega perfettamente all'idea della mente e del corpo, quindi se la mente non è allineata col corpo, l'anima non è allineata col corpo, anche nella vita di tutti i giorni, nella produzione, quanto nella creatività, tutto va, diciamo, a farsi benedire dire io. Quindi voi riuscite con questo seminario, che non è un seminario, scusate, queste tre giornate fondamentali, a creare una sinergia tra quello che è, quello che siamo noi all'interno e all'esterno, per riuscire a diventare totalmente creativi, giusto? Assolutamente sì. Noi cerchiamo di accompagnare per mano le persone, come se fosse praticamente un percorso di vita. Infatti non sono solo tre giornate. Noi poi dopo creiamo un gruppo, una chat, con le quali continuiamo i rapporti, intessiamo dei rapporti costanti. Ad esempio quest'anno, quest'estate, abbiamo organizzato una giornata formativa al mare e lì è stato proprio il momento eclatante in cui praticamente abbiamo potuto concretamente toccare con mano alcuni esperimenti che abbiamo fatto anche in aula. Nel mio centro, nel Beauty, nel Beauty Mail, di questo centro a Serra Stretta, io ho cercato di raggruppare un pochino alcune, diciamo, alcuni percorsi olistici, tra cui il più importante è la piramidoterapia, cioè fisicamente una piramide all'interno della quale si può fare meditazione, si può raggiungere, come dire, un punto alto di rilassamento e di collegamento mente-spirito-corpo. E noi cerchiamo poi, nel nostro piccolo, con questo percorso con onno, cerchiamo di accompagnare le persone a poi arrendere concretamente e ad avere concretamente i risultati da portare a casa. Che poi questi risultati siano umani, siano lavorativi, siano di evoluzione, anche di salto quantico. Perché noi stiamo cercando anche di spiegare in modo semplice quello che molti oggi cominciano a scoprire. Può essere, come dire, concetti dalla fisica quantistica alla gestione del prestito in banca. Quindi vogliamo che le cose siano pratiche, siano semplici. Cioè, perché? Perché praticamente la semplicità è quella che accompagna effettivamente i risultati dell'uomo. Cioè, più noi ci complichiamo la vita, più il mondo risponde in modo complesso. Più noi semplifichiamo la vita, più la vita ci risponde in modo semplice. Perché dice, perché no? Certo. Perché no? E allora, semplificarla, per poterla semplificare bisogna conoscere. Conoscere un po' tutte le dinamiche, tutto quello che accade, da vari punti di vista. Ecco perché c'è questa perfetta, come dire, sintonia energetica e anche professionale. Quindi si va dalla commercialista allo psicologo. Cioè, proprio perché tutte le sfaccettature umane vengono trattate, affrontate, vengono rapportate e poi noi diamo semplicemente delle indicazioni. e i nostri, chiamiamoli così, compagni di viaggio, poi possono farne tesoro. Infatti il clou del nostro corso non è dopo quella dispensa. Che noi invece sul discorso della dispensa abbiamo cercato di creare semplicemente un piccolo riassunto, un promemoria. è nella giornata del corso, perché vogliamo che il risultato avvenga dopo. E questo lo facciamo, ad esempio, con tanti sistemi, che può essere sistemi di comunicazione che vanno dalla comunicazione pura alla comunicazione con le immagini, alla comunicazione con le musiche. Quindi noi, durante il percorso, usiamo tantissimo le musiche. La musica può essere acida, acidificante per un corpo o può essere fortemente alcalina, può essere fortemente alcalinizzante. La gente ne parla pochissimo. La musica che noi ascoltiamo con quotidianità è una musica fortemente acidificante, cioè fa male alle persone. E noi spieghiamo che c'è un modo semplice per far diventare la musica alcalina. Basta, nessuno ce lo dice, noi cerchiamo di dirlo. Dal punto di vista dell'alimentazione, cerchiamo di dire, bene, cerchiamo di capire qual è l'alimentazione consapevole della persona. Ma anche noi abbiamo coniato insieme, adesso che stiamo redigendo il nuovo sito, abbiamo coniato anche un altro termine, che è alimentazione condivisa. Cioè, che cos'è alimentazione condivisa? Secondo me è un'evoluzione dell'alimentazione consapevole. L'alimentazione consapevole è sapere cosa può far bene, cosa può far male. E quello è il punto di partenza. E dire, questo tendenzialmente fa molto male, questo tendenzialmente fa molto bene. L'alimentazione condivisa è quella che consente alla persona di non andare in stress per l'obiettivo che vuole per forza raggiungere. Cioè, non è una dieta, ecco, la dieta è uno stress. La dieta è uno stress. La dieta è uno stress. Esatto. Mentre invece l'alimentazione condivisa è un qualcosa che la persona può condividere con se stesso e dire, bene, io vorrei salire sull'Everest. Però prima di raggiungere l'Everest, sono in grado di arrivare sulla collinetta vicino casa a 600 metri sul livello del mare? Sì, no, forse. Mettiamoci alla prova. Dalla collinetta vicino casa, sono in grado di arrivare a 1.100 metri? Sì, no, forse. Mettiamoci in discussione. Questa dell'alimentazione è un qualcosa che poi ritorna pratico, quotidiano, perché la persona gradatamente, come diceva anche Graziella poco fa, diceva che c'è bisogno di tempo, di tempo fisiologico per abituare la persona. La persona, una cosa che la fa per un giorno, per sette giorni, per dieci giorni, la dimentica, la cancella. La cosa deve essere fatta bene ripetendola costantemente. A quel punto diventa un'abitudine consolidata, diventa accettata dal corpo e a quel punto diventa alcalinizzante, diventa un qualcosa di positivo. Abbiamo lasciato praticamente adesso la curiosità a chi ci sta ascoltando, perché hai parlato di alimentazione, hai parlato di musica, hai parlato di un rinnovamento che può arrivare da dentro se la persona ovviamente è predisposta. A questo punto a me fa pensare la location, e lo voglio chiedere a Graziella, dove si svolgerà questo... io li ho chiamati tre giorni, però non sono tre giorni, però dove si svolgerà? Perché l'idea di comunque fare questo percorso penso deve essere anche sviluppato in un luogo che consenta adeguatamente di mettere la mente in collegamento con il corpo. Sappiamo già? E ti stupirò con effetti speciali. In realtà la location è importante, e in questo caso si terrà la mezzia terme. La cosa interessante è quello che si viene a creare dentro, perché arrivata all'interno di questo contesto, cioè di questa che può essere anche una stanza, le persone entrano a fare questo viaggio. Questo viaggio è fatto di energia. È comune sentire attorno a sé l'energia che circola. Quante volte noi ci diciamo quello ci piace o non ci piace a pelle, a pelle sentiamo che... non c'è un motivo per cui una persona ci stia antipatica o simpatica senza conoscerla. Allora, che cosa è quella cosa che ci fa sentire, percepire la, diciamo così, simpatia o antipatia verso una persona? È questa cosa che poi si chiama energia. È una cosa che è dentro di me. Io sono fatta di energia, tu lo sei, la natura, noi siamo parte della natura. Perciò si viene a creare che cosa? Diciamo, facciamo che la chiamiamo campana energetica. Vabbè, è una sorta di bolle energetica. E quindi è lì che si crea il contesto. Ecco perché se tu trovi dentro le buone condizioni, e queste noi le creiamo perché ci studiamo prima, le condizioni migliori possibili. Non c'è mai una condizione ottimale perché tu non sai le persone che vengono, chi saranno e che cosa saranno in grado di portare lì dentro. Tu accogli. E quando tu le hai viste la prima volta, allora tu ti aspetti che la seconda volta, tu queste persone le conosca già. Assolutamente. Assolutamente no. Perché intanto sono passati 21 giorni. E quindi quello che hanno, e ti mettono a disposizione, anche noi stessi che formiamo costantemente, in 21 giorni impariamo tante cose, impariamo e anche disimpariamo tante cose perché poi il cervello è flessibile da questo punto di vista. E quindi ogni volta è una ricerca nuova. Qual è la condizione di base? La condizione di base è accogliere quello che ti viene. Ecco perché Antonio dice sì, c'è il format di base, però come è realmente? Ce lo diciamo alla fine delle tre giornate quando ci troviamo a cena e facciamo il punto della situazione e in genere brindiamo. Siete arrivati alla meta praticamente. E lì poi mi riporto a lei. Attenzione perché è tutto collegato, mannaggia. Non volendo è tutto collegato. Infatti c'è Angelina. Quindi io penso questo. Adesso l'ho chiesto ad Angelina per concludere questa bellissima chiacchierata. Sì, c'è un percorso iniziale, lo ha detto Graziella. Si rivalorizzano secondo me tanti aspetti di sé, però poi si arrivi in un punto che magari nessuno di noi si aspetta. Anche perché io lo dicevo per la location perché? Perché nella vita di tutti i giorni nessuno magari ha il posto perfetto, zen dove può camminare sulla spiaggia. E quindi magari la location che diceva Graziella è proprio questo. Cioè si pante in una stanza però poi si riesce comunque a trovare la pace o la tranquillità per rinascere in generale e quindi trovare l'idea giusta magari che si sta cercando. Sì, riprendendo un po' il concetto della meta io aggiungerei anche l'oltre meta. Sì, allora è chiaro che quando si arriva a fare un programma del genere, è un programma, è un training, no? È una sorta di allenamento ai buoni pensieri, alle buone azioni, alle buone strategie attraverso appunto la consapevolezza e la condivisione. Sono tutte parole chiave. A volte si arriva anche senza sapere, dice io adesso dove vado? Arrivano proprio con questa domanda, dove vado? E non è detto che lo scoprono in questi tre giorni. Sappiamo però che si scopre perché quando tu scopri te stesso scopri anche dove vuoi andare. E quando ci arrivi, la straordinarietà di questa cosa è che subito riesci anche a vedere come nel rugby l'oltre meta, no? C'è questa metafora straordinaria di questo sport, tu arrivi, il tuo lavoro come squadra è quello di fidarti del tuo compagno, è una parola importante, fidarti di chi ti circondi e di chi sta dietro di te perché nel rugby tu la palla devi mandarla indietro e sapere anche dove e a chi mandarla. Quindi è proprio una questione di chimica, di legge di attrazione, no? E ne parliamo anche molto molto nel nostro training. Ti fidi, arrivi, arrivi a meta, il tuo lavoro è arrivare lì e quando arrivi che hai raggiunto l'H, capisci che hai la possibilità di fare un altro mezzo punto, un altro punto che è l'oltre meta e quando tu intravedi l'oltre meta capisci che sei arrivato lì dove la tua anima ti ha portato. Perché mi piace quello che tu hai detto, il collegare, no? L'anima al corpo, ma il corpo che cos'è? Non è forse un'anima incarnata? Lasciamo il dubbio a chi ci sta ascoltando. Quindi non ci resta che concludere adesso a chiederci, io lo chiedo a voi, ma lo dico a Graziella, mi prendo la briga di chiederla a Graziella perché non perché sia più brava assolutamente non mi permetterei mai in questo bellissimo triangolo positivo, perché l'hai detto tu, anzi no, l'ha detto lei, giusto, parlando del 3 che è un numero perfetto, quindi in questo caso lo chiedo alla mia destra e chiedo a Graziella quando saranno le giornate che vi potremo appunto vedere e soprattutto invitare gli amici che vorranno partecipare a contattarvi, ci darei anche gli indirizzi, se c'è la pagina Facebook, numeri di telefono, insomma le informazioni necessarie per poter fare questo salto di qualità che darà sicuramente un là, secondo me, alla nostra vita, perché partecipare alle vostre sessioni formative anche in passato comunque ti lascia qualcosa dentro, indipendentemente poi dal percorso che uno decide di scegliere. Grazie per quello che dici perché sei sempre estremamente generoso attraverso le tue parole, grazie, grazie infinitamente. Allora, sì, vi aspettiamo alla mezzia terme in questi tre pomeriggi, sono dei sabato pomeriggi, quindi splendidi sabato pomeriggi da passare insieme, il 7, il 28 ottobre e l'11 novembre, 7, 28 ottobre e 11 novembre alla mezzia terme. Saprete la location spulciando di qua e di là dove il nostro sito che è www.prometes.it chiamandoci al 389 48 17 204 e poi cercando nei vari social Centro Prometes On perché c'è proprio una pagina che è stata creata per incuriosirvi e anche per condividere insieme tanti magnifici punti di riflessione. Perciò vi aspettiamo per vivere questo straordinario pezzo di vita insieme. Poi il resto... Ce l'ha detto Mazza Graziella, ce l'ha detto Angelina Pettinato, ce l'ha detto Antonio Molinaro, quindi potete cercare sui social ovviamente le loro pagine Facebook e chiederglielo magari in anteprima, in anticipo di cosa si tratta e poi vi aspettiamo appunto nelle date poco fa dette da Graziella che comunque passeranno in sovraimpressione. Io sono Riccardo Cristiano, vi ringrazio, ringrazio loro di questa possibilità che ci danno sempre di essere diciamo in anteprima, ma poi è anche questo un cammino che stiamo facendo insieme perché niente accade per caso. Libri TV Riccardo Cristiano. Libri TV Riccardo Cristiano.